Dottore Grilletta, oggi questo incontro del gruppo archeologico Crotoniate sul tema Crotone, due navi, una città. Questo tema che cosa vuole significare? Allora, il tema di oggi richiama il nome, il titolo del mio secondo volume che è appunto Crotone, due navi, una città. I cittadini crotonesi, molti cittadini crotonesi, sanno che c'è un moderno cacciamine che oltretutto ha ricevuto proprio nel porto di Crotone nel 95, 18 maggio del 95, la cosiddetta bandiera di combattimento offerta dal gruppo Amatruda dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia. Poi è ritornata questa unità anche nel 2014, nel 2019, ma molti cittadini crotonesi non sanno che c'era una precedente unità, un vecchio posamine che ha avuto una doppia vita, se così possiamo dire, nel senso che da nave da guerra si è trasformata in scuola di vita. Nel senso che questo posamine è diventato nave scuola dell'istituzione Garaventa di Genova, una istituzione che crea un legame storico tra la città di Crotone e la città di Genova, perché proprio questo ex posamine crotone nel secondo dopoguerra, quindi siamo negli anni della ricostruzione, diventa una piattaforma didattica, pedagogica, di avviamento professionale e di reinserimento in società dei ragazzi difficili, spesso provenienti dalla triste esperienza del carcere, e che proprio l'istituzione Garaventa si proponeva di redimere. In tutto questo lei ha fatto una ricerca, quindi questo che racconta in questo libro è tutta una ricerca storica. Sì, è una ricerca storica che abbraccia sia una delle mie tante visite all'ufficio storico della Marina Militare, ma anche e soprattutto un'esperienza anche molto bella, come ricordo, per quanto riguarda la mia vita, perché io mi sono recato sia alla Spezia, proprio con l'autorizzazione dello Stato Maggiore della Marina, questo nel lontano 2002, e sono stato proprio ospite della nave, sono stato a bordo intervistandone anche il comandante, e sia a Genova incontrando la professoressa Emilia Garaventa, pronipote del professor Nicolò Garaventa, che nel lontano 1883 aveva dato proprio il via alla nascita dell'istituzione Garaventa. Una cosa molto bella è che questa istituzione era chiamata Nave Scuola Redenzione, proprio a significare che il compito filantropico di questo professore, era un professore di matematica del liceo Doria di Genova, questa sua azione filantropica si proponeva proprio di redimere questi ragazzi, parliamo di tempi, ci riferiamo alla seconda metà del 1800, in cui nel porto di Genova vagavano minori abbandonati dalle famiglie, che spesso erano anche sfruttati, ci sono anche tristi storie purtroppo, di ragazzi, ragazzini di entrambi i sessi che venivano anche fatti prostituire pur di dare un minimo sostentamento alle famiglie.